E all'hotel Gabi come ti trovi? Mi trovo bene, ripeto, il mangiare è ottimo So che infatti fa anche della cucina tipica romagnola, che fa le serate a tema Sì, noi a giugno l'abbiamo vista una volta, la serata a tema romagnola Bella nel senso, è tutto un... Cosa avete mangiato? C'era la porchetta, c'erano i tortellini La piadina Vabbè, la piadina, si aveva fatto la piadina rosa per la notte rosa Quindi, no, no, infatti stasera si mangia piadina all'hotel Gabi Ecco, stasera è salata a piadina Stasera è salata a piadina E no, quindi il mangiare è ottimo, nel senso la scelta ce n'è Per i, ripeto, adesso per i bambini vedo che nel senso se c'è disponibilità Quindi magari non mangia questo, fammi una pasta, fammi una cosa Non dicono mai di no, quindi non hai problemi neanche a chiedere Se c'era una cosa di orari, quindi magari faccia mezz'ora prima Anche lì non ha mai fatto problemi ma si vedeva che non gli scocciava Quindi mangiare mi trovo bene Sul servizio anche, le camere vanno più che bene La piscina, quindi anche lì adesso la piscina per i bambini Secondo me anche il rapporto qualità-prezzo è ottimo Quindi quello sì